Il fiume poi è ancora molto inquinato, nonostante la situazione sia migliorata rispetto ai periodi bui degli anni 70-80, non si può certo dire che il grande fiume della pianura padana goda di buona salute. A confermarlo ci sarebbero dei dati davvero scioccanti, i pesci pescati qui a Piacenza infatti presentavano delle tracce di mercurio e di ossine. Le analisi sono state realizzate dall'Istituto Zooprofilattico di Bologna in collaborazione con il CAT e Carp Fishing Italia. Il quadro che emerge è tutt'altro che confortante. Le carpe e i siluri pescati a Piacenza e analizzati presentavano tracce di mercurio doppie alla norma e di ossine anche di 20 volte superiori ai limiti di legge. Davide Tedeschi e Marcello Mastro Giacomo hanno catturato tra aprile e maggio del 2014 nel territorio del comune di Piacenza 5 carpe e 4 siluri di età e peso variabili. Li hanno congelati e consegnati a Bologna. L'Istituto li ha passati al setaccio. Per quanto riguarda i metalli, tutte le carpe risultavano al di sotto dei limiti di legge, mentre i siluri presentavano tracce di mercurio superiori ai limiti. L'anomalia è stata riscontrata in tre femmine di siluro di 16, 14 e 24 kg pescate rispettivamente sotto il ponte autostradale di Piacenza e il Gargatano. Ma sono soprattutto i risultati sulle diossine a preoccupare. Già l'ARPA Emilia Romagna, in anni che andrevano dal 2000 al 2008, aveva fatto numerosi studi, numerosi prelievi, dai quali appunto si era vista la presenza di almeno 80-85 sostanze chimiche diverse. Cos'è che ha determinato questo inquinamento? Intanto la produzione di diossine deriva da tutti i processi di combustione in generale, con la presenza di cloro. I policloro bifenili e altre sostanze che vengono definite, sono circa 200 diossine like, provengono in parte anche dalle combustioni, ma in parte anche da inquinamento chimico. E molte sostanze che hanno effetto anche mutageno, ma soprattutto che modificano, sono dei modificatori endocrini, appartengono alla categoria dei pesticidi. Inquinano, ahimè, anche ovviamente le fonti poi dell'acqua potabile e finiscono poi in definitiva anche in po'.